salve a tutti ragazzi sono per 5 come vi dissi nel primo video e oggi siamo su star wars arena qualcosa del genere star wars arena ed è molto figo aspettate che compensa sono io sono stupido no no non devi shoppare e allora che cos'è quello schifo allora di prima vabbè non lo voglio sapere chi se ne frega c'è stoppiling ok un epic attenzione oggi troveremo una leggendaria raga ve lo dico con sicurezza perché è vero perché adesso vi spiego un attimo che spacchettiamo anche sto coso allora vi spiego quando voi c'è tipo salite di arena robe così in questo caso si chiama classe tipo io adesso sono in classe 3 alle 1500 mi si sblocca la classe 4 che sarebbe l'arena 4 e e loro vi danno già tipo tutte le leggendarie di quell'arena tutte le carte le leggendarie comprese di quella arena ed è una cosa che sinceramente non capisco però vabbè doniamo tanto qua non donna mai nessuno perché io sono in un clan totalmente a caso richiedi carta richiediamo questo che è il mio preferito non lo dite a nessuno ovviamente che è il mio preferito se no la gente si arrabbia accogli tutto sto coso va preso si 2000 di oro ci fanno altro che comodo allora adesso andiamo a fare una battaglia ha sbloccato ioda nel mentre avete visto poi ha sbloccato anche sto deficiente qua non so se ve l'ho fatto vedere l'altra volta comunque questo qua comunque facciamo sta battaglia decisiva e poi direi che possiamo spacchettare quel baule da del cazzo cioè quella spacchetto di carta lì che ci dovrebbe dare tutte le carte dell'arena e sarà fantastico sono proprio curioso di vedere che cosa mi capita in mano dai forza oh arena nuova vi ricordate che prima ero nella tipo in una valle di ghiaccio un qualcosa del genere scusate che abbasso il volume scusate ai 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 lui ci parte poi potente da sta parte noi ovviamente controattacchiamo così eh no granatiere muoviti non so se si chiama granatiere comunque quello che lancia le granate è quello lì dove è lo stronzo? ah è spawnato perché era morto che pippa tanto prego anch'io adesso sicuro intanto che il capo qua è distratto ai 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 no 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 dove andate? merde siete delle merde madonna che cosa cazzo ho fatto? ho fatto strage qui e però questi se ne devono andare a fare in culo perché adesso mi buttano giù anche l'altro aspettate fa in culo non vi permetto di buttarmi giù questa ok intanto noi gli abbiamo buttato giù un'altra torre madonna vai via di Yoda! Yoda sono indeficiente vai via scappa no pezzo di merda pezzo di merda no non ve lo prometto non me la buttate giù questa torre non me la buttate giù questa torre non me la buttate cazzo va bene facciamo una bella cosa voi mi buttate giù quella dai buttatemela giù forza e io vi butto giù tutte le torre che avete quindi la centrale compresa dai dai eh però questo è forte ragazzi questo è fortissimo ve lo giuro su identifica della gente forte e della gente non forte perché finora io ve lo giuro su quello che volete non ho mai perso non ho mai perso e non sarà questa la prima volta soprattutto in video questa volta gli facciamo l'attacco decisivo che concluderà la partita 3 a 2 ole adesso ci penso io ma baffanculo tutto nel culo pezzo di merda dai forza 6 secondi dai dai forza chi è stronzo chi è dovete riconoscere che non sono niente male a sto gioco ecco guardate ecco queste qui sono le carte che adesso mi dovrebbero dare ok adesso togliamo sto coso occhio eh dai datemi sto pacchetto di carte eccole qua sono 8 carte nuova carta sbloccata ok ok va bene questa ce l'avevo si a quanto pare ce l'avevo carta unica un'altra carta unica la leggendaria ok e un'altra carta leggendaria questa qua è bellissima l'avete visto che figo? eh ho capito cosa devo fare ah qua mi si sblocca o no ecco adesso assistite anche il allo sblocco della slot e vai e vai dai che siamo forti raga dai che siamo forti sperate che voglio upgradeare un posto deficiente per renderlo leggermente più forte tanto le monete ce le abbiamo non dovrei non vedo il motivo per cui non dovrei upgradeare le carte anche questo ole abbiamo ancora 2000 di oro sprechiamoli tanto non ce ne farei un cazzo qua loro ce lo danno come se ce lo regalassero qua in questo gioco è inutile shoppare una ricompensa giornaliero ok e vai altri biglietti perfetto io direi di andare a provare adesso questo deficiente qui facciamo l'ultima partita poi direi che basta così facciamo quest'ultima partita vediamo come va siamo contro Mclare intanto vedo qua 18 e 8 perfetto 18 e 9 va bene oh attenzione che figata sapete che non mi sembra niente male questo personaggio cioè questo leader è fortissimo è fortissimo ragazzi è fortissimo questo ve lo giuro è fortissimo occhio pezzo di infame al 10 come è fortissimo come è fortissimo non può doverla al 10 a questo livello come cazzo fa non è fortissimo via no 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 quanto ce l'hai leader forse no non lo so fanculo no impossibile raga cioè non ce n'è questa la perdo questa la vado a perdere questa la vado a perdere secondo me questa la vado a perdere perché guardate le sue torri e vaffanculo attacco di la stronzo attacco un po' di qua un po' di là non ti faccio capire un cazzo guardatemi i secondi i suoi secondi i miei che aumentano sempre di più che rabbia madonna che rabbia vaffanculo cheat è forte attenzione io devo sempre stare io devo sempre parlare in realtà non ho mai capito che devo stare zitto madonna no raga è persa questa è persa in partenza proprio mi sta dando il filo da rocce in maniera impressionante c'è io non ho ancora quasi toccato le torri guardate nella minimappa si no volevi allora tu mi fai così e io ti faccio sia così che così stronzo vaffanculo ok gliel'ho quasi fatta giù il problema è che lui ci attaccherà adesso con tutta esatto con tutta la prepotenza dall'altra parte se la vinco questa raga io voglio gli applausi eh cioè oddio oddio raga oddio oddio raga 4 3 2 oddio mi sta dando un attacchi cardia oh no 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 vaffanculo no si oddio oddio non ci credo non ci credo raga non ci credo ce l'ho fatta non ci posso credere Meno male che ho registrato Perché questa partita passerà alla storia Porca vacca Questo era fortissimo Questo era veramente forte Probabilmente sapeva usare anche il leader Molto bene perché lui attaccava E' stato molto 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 bravo Comunque Io direi che dopo questo infarto finale Che Pensavo di perdere un'unione assurda Invece no ho vinto Meno male Se vi è piaciuto lasciate un commento mi piace Iscrivetevi al canale e attivate la campanella Ciao ciao